Il corso di laurea in chimica di primo livello è il primo passo di un percorso formativo che può prevedere in seguito la laurea magistrale in scienze chimiche e il dottorato di ricerca in scienze chimiche e molecolari. La capacità di controllare e comprendere la materia trova applicazioni in tutta una serie di campi, dal campo biomedico a quello ambientale, energetico, dei materiali e di conseguenza la figura professionale del chimico ha una elevata flessibilità lavorativa per cui può trovare impiego sia in laboratori di analisi, in stabilimenti di produzione chimica e in realtà anche in tutti i luoghi dove ci sono processi che prevedono l'utilizzo di materiale di tipo chimico. È un corso di laurea a numero programmato che prevede mediamente 75 iscritti, questi vengono definiti anno per anno. Il bando viene pubblicato di solito nella seconda metà di luglio di ogni anno e ha una scadenza di solito verso l'ultima settimana di agosto, va controllato anno per anno. Il test d'ingresso si tiene di solito ai primi di settembre. Questo è un test che è comune a molti altri corsi di laurea scientifici dell'Università di Bari e consiste in risposte multiple su argomenti di chimica, biologia, matematica, fisica, logica ed inglese. Le basi di matematica e fisica vengono poste con gli esami del primo anno che prevedono anche corsi di chimica generale e chimica analitica. Già dal primo anno gli studenti sono impegnati in numerose esercitazioni pratiche in laboratorio. A fianco dei nomi degli insegnamenti sono riportati quelli che sono indicati come crediti, che sono una misura delle ore di attività comprensive di lezioni e studio personale che deve fare lo studente. Quelli indicati in colore sono i crediti, quindi grossomodo le ore che uno deve dedicare alle attività di laboratorio. Nel corso delle esercitazioni gli studenti familiarizzano con strumentazioni all'avanguardia e noi forniamo, oltre al blocco di esami obbligatori regolamentari, anche una serie di corsi di approfondimento a scelta degli studenti. Noi cerchiamo di incoraggiare il più possibile anche le esperienze all'estero attraverso il programma Erasmus.